Vuoi una compressione impeccabile? Evita questi 4 errori comuni per portare il tuo mix a un livello successivo. Errore numero 1. Attacco il rilascio del compressore troppo veloci. Senti come il suono diventa innaturale e schiacciato. Ricorda di mantenere un equilibrio per mantenere il suono della traccia il più naturale possibile. Errore numero 2. Threshold del compressore troppo bassa. Questo può causare un'eccessiva compressione del segnale facendo risultare tutto piatto e senza vita. Errore numero 3. Dimenticare di compensare il volume di uscita con il make up gain. Dopo aver compresso il segnale è importante matchare il volume di uscita. Un volume più alto o più basso potrebbe sviarti nel capire se la compressione sta agendo nel modo corretto oppure no. Errore numero 4. Scegliere il compressore sbagliato. Non tutti i compressori sono uguali. Alcuni sono migliori per le voci, altri per la batteria, alcuni sono più veloci o più lenti. Sperimenta e trova il compressore che si adatti meglio al tuo materiale. Se ti è piaciuto il contenuto salvalo per guardarlo in un secondo momento, commenta qui sotto e...